Quattro teatri verranno riqualificati, ci sarà un efficientamento energetico per strutture sempre più ecosostenibili. Fondi del PNR, una bella notizia per la città di Pescara. Sì, adesso stanno arrivando tutte le progettazioni che sono state realizzate in fase esecutiva, partono i lavori, in alcuni casi sono già partiti, in altri stanno partendo, ma c'è la trasformazione totale della città e in questo caso parliamo dei teatri, l'efficientamento energetico e anche la creazione di spazi tecnologicamente avanzati per dare sempre più servizi, sempre servizi migliori per la comunità in termini di spettacoli culturali o di intrattenimento. Quattro teatri, il teatro d'annunzio fondamentale per la città, l'auditorium flaiano, il teatro Cordova e il teatro Cerulli. Quindi quattro strutture che hanno un grande significato dal punto di vista culturale ed artistico, che sono le punte di diamante di un'operazione complessiva di riqualificazione degli spazi culturali della nostra città. Per garantire anche un miglior clima anche all'interno delle strutture e quindi anche per favorire il benessere degli spettatori. E' comunque un intervento che rientra nelle attività di sviluppo sostenibile anche dal punto di vista ambientale. Infatti dai calcoli dei tecnici è venuto fuori che attraverso questi interventi sarà possibile ridurre, anzi abbattere il consumo di CO2 e addirittura come se ci fosse una corrispondenza rispetto al piantumazione di oltre 6.000 alberi.